Fare attività fisica fa bene, ormai questo lo sappiamo un po' tutti, lo sappiamo dentro di noi, però tant'è il 60% degli italiani non fa assolutamente attività fisica, questo è un dato allarmante, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato proprio quelle che sono le dosi minime di attività motoria a seconda delle varie età che andrebbero fatte, andrebbero assunte proprio come fosse un medicinale per poter stare bene, stare bene prima ancora di avere, quindi dover assumere medicine e quant'altro, ne vogliamo parlare in compagna di Vincenzo Manco, Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Sport per Tutti, cioè la WISP, che tra l'altro ha stilato proprio un vademecum, potremmo dire, ha preso quelle che sono le indicazioni dell'OMS per poterle portare anche a tutti noi con una pubblicazione molto interessante. Quali sono le dosi, quante sono e quali sono le dosi da assumere di attività fisica giornaliera? Intanto c'è un'indicazione ben precisa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che noi abbiamo voluto prendere ed editare poi in questo puscolo facendo anche un'iniziativa di recente alla Camera dei Deputati. Sono dosi che riguardano 150 minuti, quindi non tanto tempo da impiegare per quanto riguarda l'attività relativa ad adulti e anche la popolazione anziana, 60 minuti nell'arco della settimana, 60 minuti al giorno per quanto riguarda invece bambini e adolescenti. Queste sono indicazioni molto precise che si risolvono poi sostanzialmente dal punto di vista giornaliero sui 20 minuti circa al giorno per quanto riguarda gli adulti anziani. Basterebbe già una camminata moderata, un po' lo sappiamo, però perché l'attività fisica, ripetiamola una volta di più, è così importante? È importante perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato che nell'inattività fisica esiste un grande fattore di rischio per quanto riguarda le malattie non trasmissibili, le malattie croniche non trasmissibili, quindi tutta la parte relativa alle malattie cardiovascolari, tumori, diabete soprattutto e anche la parte relativa all'ipertensione. E questo è un dato ancora più allarmante, quello che dicevo prima, il 60% è inattivo in Italia, non fa attività fisica. Questo è allarmante perché questa correlazione fra le malattie di questo tipo e l'inattività è pesante in un pool, in una situazione in cui la popolazione per il 60% è inattiva. Tra l'altro siamo i più sedentari d'Europa, è vero? Siamo i più sedentari d'Europa, purtroppo portiamo addosso questa maglia nera dentro i paesi dell'area Euro, dei 28. La condividiamo insieme a paesi come Malta, Portogallo e Grecia, quindi abbiamo una grande differenza sostanziale con quelli che sono invece gli impegni di attività fisica che nel sistema di costruzione delle politiche pubbliche, quindi per quanto riguarda la scuola, non soltanto le attività relative semplicemente allo sport, ma il sistema sociale, l'idea di città porta a muoversi molto di più nei paesi del nord Europa, quindi Danimarca, Finlandia, Norvegia e la distanza è davvero enorme. Quindi siamo appunto al 60% di inattivi, loro sono al 9, l'8-9% in alcuni degli stati nordici. Esatto, e noi tra l'altro nella parte restante abbiamo un 27% che fa attività fisica in modo molto sporadico e solo il 3% in modo costante, quindi abbiamo ancora passi da fare, abbiamo ancora strada da fare. Ma non lamentiamoci sempre, diamo un'inversione di rotta, diamo quelle che sono le idee che avete magari voi anche per quello che potrebbe essere una soluzione a questo problema. Ma intanto c'è da dire, c'è da fare un vero e proprio investimento in quella che è la cultura motoria e la cultura sportiva in questo paese. Questo paese è un paese diciamo avaro sotto questo aspetto, spesso e volentieri gli investimenti pubblici riguardano la parte dello sport diciamo professionistico, comunque la parte dello sport agonistico, ecco diciamo la parte più importante. Si dovrebbe invece immaginare che l'attività fisica, così come indica l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è parte del progetto di vita di ogni cittadino e quindi contribuisce alla buona salute e la buona salute determina diciamo uno stato di benessere non soltanto psicofisico ma anche un benessere sociale, quindi una capacità di relazioni migliori e quindi anche di benessere diffuso. Pensando proprio anche soltanto a quella che è la spesa pubblica, chiaramente meno persone con problemi legati all'inattività vuol dire meno spese pubbliche riguardano la sanità e poi tutto il resto. Voi siete impegnati da decenni a diffondere una cultura del movimento, quali attività in generale promuovete da questo punto di vista? In che senso le città per esempio dovrebbero attivarsi per aiutare in questo senso? Ecco, già questo sarebbe come dire, ciò che viene riconosciuto alla pratica sportiva, allo sport e all'attività fisica e soprattutto diciamo la visione trasversale e quindi l'impegno anche di inclusione sociale, di intervento sull'integrazione multiculturale, sul sistema di salute. Noi ci aggiungiamo anche il terreno della pianificazione urbana, quindi qual è l'idea di città e come negli stessi spazi, come dire, che si espande, che guarda al futuro, ma anche come gli stessi spazi urbani destrutturati e non gli stessi spazi verdi, diciamo, della città possono essere minimamente attrezzati per esempio per quanto riguarda gli sport, gli sport urbani, penso, come dire, a tutte quelle che sono le attività della glisse, le attività di scorrimento, che possono essere pattini, possono essere skateboard, spesso e volentieri le città, gli spazi delle città, non attrezzati, sono occupati da giovani che vogliono non soltanto svolgere attività fisica, ma vogliono anche parlare di quello spazio. Grazie, grazie Vincenzo Manco, presidente nazionale dell'Unione Italiana Sport per tutti i WISP, ha citato anche lo skateboard che era una delle mie grandi passioni di sempre, quindi ancora grazie da parte mia.